Contro ordine della regione Campania. Poche ore dall'ordinanza firmata il primo maggio dal governatore, Palazzo Santa Lucia ha deciso di aprire l'asporto al jogging. La decisione al termine dell'incontro con i rappresentanti delle camere di commercio. In particolare saranno eliminate da lunedì le fasce orari in cui era consentita l'uscita dei cittadini. Resterà invece in vigore una fascia oraria tra le 6 e le 8 e 30 del mattino che viene riservata a quanti intendano svolgere attività sportiva anche con corsa veloce senza mascherina cioè jogging rispettando comunque il distanziamento sociale. Da verificare era l'impatto sul territorio anche perché in questi giorni si era già registrato un cospicuo incremento di persone in strada. Per questo motivo è sceso in campo anche il sindaco che ha partecipato a una serie di controlli straordinari con le forze dell'ordine. Dal centro di Salerno fino alla zona orientale, Santa Teresa, Lungomare, Torrione, Passena, strade adiacenti al parco Mercatello. Io sono stato costantemente insieme agli uomini della Polizia Municipale, della Protezione Civile e altre forze dell'ordine in questi tre giorni a verificare l'andamento delle passeggiate in città. Devo dire che ho visitato Via Lungomare, la zona orientale, tutta la città. In Via Lungomare c'è una sovrabbondanza di persone al corso. Devo dire però che il 99,9% dei miei concittadini usa le mascherine e rispetta in qualche modo la distanza sociale, evitando assolutamente gli assembramenti. Però il grande volume in qualche modo crea degli assembramenti volontari che noi abbiamo aiutato a diradarsi. Da questo punto di vista il comportamento civico dei cittadini selenitani ha dato prova di sé. Abbiamo ottenuto assolutamente bassa la diffusione del contagio e questo si iscrive sicuramente a un comportamento fortemente motivato di miei concittadini e delle indicazioni che ci sono provenite. Ora questo è un virus però tergibile, bassa una distrazione, una trascuratezza per far fare dei passi indietro incredibilmente pericolosi. Quindi quando abbiamo ottenuto in questi giorni con un comportamento altamente civile, altamente responsabile, dobbiamo preservarlo nei giorni a venire per evitare di perdere tutto il lavoro fatto.